Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla statale 67 Tosco-Romagnola, traffico rallentato per lavori tra Scopeti e Sandetole in entrambe le direzioni. Traffico regolare sul resto della rete stradale ed autostradale della regione Toscana. In A1 fare attenzione per controllo della velocità attivo tra chiusi Chianciano e Valdichiana in direzione Firenze e controllo della velocità anche in A11 tra Sesto Fiorentino e Firenze Nord in direzione Pisa. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra Tavarnelle e Sandonato in direzione Siena. Sulla statale 12 della Betone e del Brennero, senso unico alternato per lavori tra Pisa e Dogana Nuova in entrambe le direzioni in tratti saltuari. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie!